I friulani nel mondo, lontani ma vicini. Un legame forte che abbiamo riscoperto grazie alla bellissima iniziativa legata alla seconda maglia dell'Udinese. Chi sono? Che cosa fanno i nostri corregionali all'estero? Conosceremo imprenditori, manager, artisti e non solo. Ogni venerdì alle 21 su Udinese TV e in streaming in tutti i cinque continenti. Friuli chiama mondo per sentirci ancora più vicini. Grazie per la visione!